Sono 2.284 le sanzioni elevate per il mancato pagamento del biglietto relativo ai servizi di trasporto pubblico urbano effettuato da Sasa a Bolzano e Merano. Il 51% delle multe sono state rilasciate a cittadini stranieri. Un altro dato negativo giunge dal settore dei treni, infatti il 41% delle sanzioni riguarda proprio sempre gli stranieri. Il tutto segnalato dal consigliere provinciale di Alto Adige nel cuore Alessandro Urzi dopo la risposta dell'assessore provinciale alla mobilità Florian Musner ad una sua interrogazione. Oltre al mancato pagamento dei biglietti emerge un secondo problema, ossia quello legato alla sicurezza. Maggiori controlli ma anche maggiore vigilanza perché noi abbiamo avuto una risposta ad una nostra interrogazione su degli episodi che c'erano stati segnalati perché questo nostro intervento nasce dalla sollecitazione che abbiamo avuto da moltissimi cittadini che sono testimoni quotidianamente, viaggiano sui mezzi pubblici di questo tipo di omissione, cioè gente che sale, non paga il biglietto, si siede, si accomoda tranquillamente. Abbiamo avuto anche notizia di aggressioni, in particolare ce le conferma l'assessore Musner rispondendo ad una nostra interrogazione, alla violenza verbale seguita alla contestazione della mancanza del biglietto e seguita all'aggressione fisica nei confronti di Capitreno sui mezzi ferroviari della provincia di Bolzano. Alla luce dei fatti sorge spontanea un'altra domanda, se successivamente le multe vengono saldate regolarmente. Domanda più che legittima, a questo punto io credo che sarà necessario con la serie di iniziative, ulteriori interrogazioni che stiamo muovendo alla provincia indagare anche su questo aspetto, capire soprattutto se esistono casi analoghi anche per quanto riguarda la SAD che non ha saputo fornire i dati mentre al contrario questo è successo per la viabilità su rotaia così come per la Sasa.